e cos'altro aveva in mente giovanni se non quel che è virtuoso cosicché egli non poteva sopportare un'unione disonesta perfino nel caso del re dicendo non è lecito per te averla in moglie lui poteva essere rimasto in silenzio se egli non avesse considerato indecoroso non dire la verità per paura della morte far cadere il ministero profetico di fronte all'autorità del re o ad operarsi in adulazioni sapeva bene che sarebbe morto in quanto avversava il re ma preferì la virtù alla salvezza fisica cosa c'è di più utile della passione per portare i santi verso la gloria